Il primo passo di danza Ok, il successivo è farsi superare da una vecchietta al bancone Successivamente viene non riuscire a prendere una decisione Ok, adesso saremo tutti schiavi del testosterone Quindi investiremo tutti i nostri soldi nella recessione Ora dobbiamo avere tutti una gran paura di una semplice iniezione E infine ci presenteremo tutti i ubriachi ad una lezione Ok Quindi adesso la facciamo tutta di seguito Come sarà effettivamente quella sera Se rubo una mele poi mi sbattiono in prigione Quando a porta vuota calcio fuori il padrone Quando la vecchietta mi soffassa al bancone Quando non riesco a prendere una decisione Quando mi ritrovo schiavo del testosterone Quando investo il giorno dopo c'è la recessione Quando ho paura di una piccola iniezione Quando mi ubriaco prima di un'audizione Quando mi ubriaco prima di un'audizione Allora